Non era facile, il riscaldamento, Plizzari ha provato, ha detto no, subito in campo, forse qualche indecisione su qualche uscita, poi però nel secondo tempo molto attento e preciso. No, sono stato avvisato prima partita, ma il portiere settimana sa che deve sempre farsi trovare pronto, quindi ero tranquillo e poi va bene, è andata bene per risultato, sono un po' dispiaciuto per i due gol presi, perché il portiere non vorrebbe mai subire i gol, però... Per 90 minuti non le hai presi i gol, dai, le hai presi al 91esimo, al 94. Però contano lo stesso, quindi preferivo non prenderli, anche recupero, però va bene così, importante alla fine sono i tre punti e prendiamo la vittoria. Cosa ti ha detto Guppone? No, Gigi è un ragazzo sempre molto generoso, vuole sempre aiutare la squadra, lì ha valutato male il calcio d'angolo, il cross, è venuto troppo indietro e è stato anche un po' sfortunato. Non posso non chiederti del Catanzaro? Domenica c'è lo scontro in casa nostra, arriviamo da una vittoria, quindi dovremo giocarci con serenità e proveremo a vincere.